Questi nuovi Durex non riescono a lasciare un'impronta nel torneo, oggi è un'altra sconfitta, come mai ragazzi? Ancora vi dovete ambientare, non so voi. Aspettiamo che il nostro portiere si rimette, risulta infortunato sempre di più e quindi prende gol sulle patti. Comunque ancora manca qualcuno da squadra, non sei niente però che no. Rispetto all'altra volta la prestazione è migliorata, avete dei miglioramenti? Sì, sì, questo sì. Comunque più avanti andate più affronterete avversari molto forti, voi comunque siete pronti a tutto. I Durex la vince. Il prossimo torneo avete diciamo uno scontro salvezza contro i Soccer Rangers, Soccer Rangers si chiamano la squadra, voi ancora non la conoscete però sono in zona play out, magari se in caso di vittoria potete dire ancora la vostra in questo torneo. Noi il nostro obiettivo a questo punto è di essere interventi alla fine come ultimi e andranno cercare di arrivare qui. Qualcuno da salvare oggi nella partita? Portiere. Nome, come cognome? Tu che è Inzerillo. Inzerillo, Inzerillo è stato migliore in campo. D'accordo? Andate con un pull mio. Gli avversari come vi sono sembrati? Buonasera. Va, va, va. Il minuto in campo. Ma i ragazzi sono bravi. È alla nostra portata. Però vi ho spiegato qualcosa d'atticamente e ci hanno fregato. Facciamo un risultato ingiusto, direi ingiusto. E vabbè, vi rifarete allora, dai. Ci vediamo sabato prossimo, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Bulla Boys che tornano vincenti. Guarda a caso con il ritorno di Monti Trepali. È un caso oppure... Guarda a caso, guarda a caso, guarda a caso. Però d'amore ti ha fatto gol, Monti. È ragione, è ragione Bulla Boys. Noi ci ritiriamo perché il capitano ha stagnato. Il capitano sarebbe Varvara. Il mio gol. Cosa pensano dei tuoi compagni nel gol di Varvara? Bellissimo. Va, Varvara non devi parlare tu, i tuoi compagni. Eh, quello io per loro. Bellissimo. Ma l'azione è che con Pizzo. Che con tu che ne pensi? No, diciamo che era una... C'è la dire che abbiamo un conflitto... Abbiamo un conflitto dentro tra Monti e Pizzo. Ah, sì? E sono lasciato il suo posto, infatamente. Eh, lo dono detto Pizzo, che ce l'ha fatto? Se ne andavo per un cuino, eh. È arrabbiato con voi. Non me, è con me. Buongiorno. Infatti stiamo pensando di buttare... Perché pensa che io faccio i cambi perché te ne ho fanno giocare. Guarda, guarda, è un portiere con l'orologio. Comunque è stata una bella partita, no? Vi siete divertiti? No, sì, la fine... No, 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 no. Abbiamo giocato a me perché non c'era Buset. Sanno io, sì, sì. No, Buset c'era. Ah, no, lui non ha giocato a Buset. È stato squalificato. È stato squalificato. Quindi Tornamonti, Buset squalificato. Questi Bullaboy si vincono tranquillamente. Eh, ha capito tutto. Eh, questi Durex come vi sono sembrati? Ma sono una squadra nuova. Grazioso, molto carino. Molto carino. Ma va bene, ma? C'è bellino. C'è bellino. Ma bello. Prossimo torno avete il Rosenborg, un'altra squadra, una promossa. Non c'è bocca aperta. E anche la mano è tutta a posta. La farete, no? Sì, dovrà. Vieni in campo? Cancio scappi. D'amore. D'amore che fa l'autogoll. L'autogoll. Vieni in campo. Andrà a fare il mondo. Guarda la farà in difesa. A parte l'autogoll che non teneva l'uomo. Vabbè, ok ragazzi, vi saluto e ci vediamo sabato prossimo. Ciao, ciao.